Il Museo Acome Ambiente, partner del Sistema Scienza Piemonte, è il primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali e da quasi 20 anni offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici ed esperienze che incoraggiano l'esplorazione e diffondono la cultura ambientale. Da qualche mese il MACA, il Museo Acome Ambiente, ha una nuova governance. La professoressa Silvana Dalmazzone, la nuova presidente, traguardiamo il 2024 con una nuova governance e nuovi progetti. Sì, il museo, ho ricevuto questo mandato sul MACA, sul museo, con grande entusiasmo. Il MACA è una realtà pionieristica, esiste da tantissimi anni, come sappiamo, ma ha avuto questa visione fin dall'inizio di porsi come un museo dedicato, come una realtà, non solo museo, ma come centro, polo di attrazione per l'educazione ambientale, per la comunicazione ambientale, a tutto tondo. Quindi non, come dire, un appendice di un museo della scienza, un appendice di un museo di scienze naturali o della tecnica, come spesso accade in altri posti in Europa, ma come un luogo interamente dedicato alla comunicazione ambientale. E dal mio punto di vista questo è stato pionieristico, perché ci accorgiamo adesso, proprio in epoca di transizione ecologica, di quanto la consapevolezza sull'importanza, sulla gravità della crisi ecologica, l'importanza della transizione e anche la serietà dei processi necessari siano appunto nodale. Io sono molto convinta che sia proprio l'anello da curare di più quello più critico della transizione. La tecnologia ce l'abbiamo, abbiamo la scienza, abbiamo bisogno di consapevolezza. Comunicare l'ambiente agli studenti non è semplice, ma qui al MACA lo si fa da tantissimi anni. Sicuramente sì, il MACA svolge un ruolo cruciale a Torino, secondo me è una grossa risorsa per Torino e per le sue scuole. Tantissimi, centinaia e centinaia di studenti vengono ogni settimana a visitare il MACA, ma soprattutto a fare i laboratori. E i laboratori che il MACA offre sono un momento di didattica interattiva, di didattica partecipata, di un'occasione per i ragazzi di provare a capire davvero dal di dentro senza studiarlo solo sui libri, che cosa voglia dire avere cura dell'ambiente, come si possa fare, quali siano le vulnerabilità dei nostri ecosistemi e così via. Quindi penso che sia una risorsa preziosa che meriti di essere molto curata e potenziata. Facciamo un augurio per il 2024 all'ambiente. Ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto tanto bisogno, stiamo tutti seguendo con apprensione la COP in questo momento, la COP sul clima di questo momento, che è critica, siamo in un momento estremamente critico, di tempo davanti purtroppo non ce n'è tanto per i cambiamenti, per mettere in atto velocemente i cambiamenti che abbiamo bisogno di vedere. E penso che appunto curare attraverso anche luoghi come questo l'istruzione, ma proprio la consapevolezza, il diventare perché risorse e informazioni anche attraverso la rete ai nostri ragazzi non se ne offrono mille. La questione secondo me cruciale è quella di avere occasioni per discutere, per capire, per provare concretamente a cogliere il significato profondo del momento epocale che stiamo vivendo e di cosa è necessario fare.